buongiorno fanta allenatori bentornati qui su nozzo fanta il fanta calcio non così fanta io sono peo vi ringrazio se siete qui vi consiglio di vedere il video di presentazione se non l'avete ancora fatto oggi vedremo insieme uno dei fanta calci che sto giocando vi anticipo che nel complesso sono tre e hanno tutti modalità e regole diverse quindi è interessante avere una panoramica di vario tipo questo primo fanta calcio è quello che si potrebbe definire il mio fanta calcio storico quello che gioco da più anni con degli amici della mia città quindi è davvero da tanti anni che facciamo questo fanta calcio a volte ci sono stati delle annate di pausa ma bene o male il gruppo il nocciolo duro è composto dalle stesse persone quindi ci conosciamo molto bene partiamo subito dalle regole di questo fanta calcio intanto un classic quindi il fanta calcio più diffuso a 10 squadre la modalità di asta quest'anno è stata molto particolare perché gli anni passati abbiamo fatto un'asta classica a chiamata con i vari rilanci ma abbiamo introdotto una regola molto interessante per la quale ogni squadra poteva riconfermare l'anno dopo fino a tre giocatori in ruoli diversi a patto che questi giocatori fossero stati presi nell'asta di agosto all'interno di una certa cifra quindi se non ricordo male per l'anno passato la cifra era di 15 fanta milioni cioè al di sotto dei 15 crediti era possibile l'anno dopo andare a confermare dei giocatori quest'anno ogni squadra si è ritrovata ad avere la possibilità di fare delle riconferme l'anno passato io ad esempio avevo preso bulaya dia a pochi crediti ed è stata un'annata incredibile di dia che tra l'altro ha contribuito insieme a usi man a farmi vincere questo fanta calcio e quindi quest'anno l'ho riconfermato perché ad agosto c'erano dubbi ma quando si è capito che sarebbe rimasto alla serenità ne ho deciso di confermarlo l'altro giocatore che poi ho confermato era zappacosta perché l'avevo pagato una cifra onesta l'anno passato e era un giocatore che pensavo potesse fare discretamente quindi l'ho confermato per avere un portatore di bonus difensivo preciso anche che questo fanta calcio utilizza il modificatore della difesa classico quindi non quello dinamico ma quello a tre fasce quindi i bonus da 1 3 e 6 detto questo una volta che abbiamo fatto le nostre conferme dell'anno passato il resto della dell'asta è stata svolta per questioni di tempistiche di incroci e di organizzazione è stata fatta con la modalità draft quindi in sostanza la squadra che aveva meno crediti a partire dalle riconferme partiva a chiamare riassumendo io sceglievo verso il fondo sia perché avevo vinto il campionato prima ma anche perché avevo riconfermato di a zappacosta che avevano un valore comunque importante quindi intanto passo ad avere una visuale di quella che è la mia rosa all'interno di questo fanta calcio nel primo giro sono riuscito a prendere mimmo berardi che incredibilmente è stato un po snobbato tra i primi nomi è stato chiamato lautaro osimen giru scamacca anche andato molto alto e a me quando ero al turno di chiamare è arrivato c'era berardi quindi ho scelto di prendere lui adesso purtroppo se sei infortunato però pazienza questa è la mia rosa all'interno del draft tra gli altri colpi importanti che ho piazzato sicuramente quello di colpani anche perché è un giocatore che ho preso a nove crediti che era la sua quotazione l'ho chiamato in fase draft visto che abbiamo utilizzato questa modalità quest'anno la regola delle riconferme l'abbiamo adattata un filo perché chiaramente sotto i 15 significava avere giocatori già abbastanza importanti riconfermabili quindi c'è abbiamo sempre questa regola delle riconferme però l'anno prossimo potremo confermare i giocatori che sono stati presi in fase di draft ad una cifra inferiore a 10 crediti quindi da 9 in giù per esempio colpani io l'ho pagato 9 e quindi l'anno prossimo potrò riconfermarlo dopo il draft che è stato svolto per una quindicina di chiamate quindi ogni squadra poi non era completa anche in questo caso per questioni di tempo abbiamo poi completato le squadre con dei giri di buste nei giorni successivi quindi ogni squadra aveva 15 giocatori di partenza e gli altri 10 li ha completati poi nei giorni seguenti un'altra nota importante legata al regolamento di questo fantacalcio è che per evitare situazioni dove il giocatore si rompe il crociato e ci sono appunto viene buttato via una stagione semplicemente perché il top di reparto si è rotto abbiamo introdotto negli scorsi anni un sistema di cambi extra quindi ci sono i soliti mercati a gennaio e uno poi nella fase primaverile in genere verso pasqua però fuori da questi mercati ogni squadra ha a disposizione due cambi extra in tutta la stagione che può giocare come meglio crede oltre a questo anche gli asterischi li riteniamo chiamabili anche durante l'anno quindi per esempio io avevo Elmas e Dragusin ho avuto la possibilità di sostituirli già in precedenza non appena sono diventati asteriscati questa dinamica ha dei pro e ha dei contro il pro ovviamente è che non si rischiano situazioni estreme di squadre disastrate per via degli infortuni per via delle cessioni all'estero eccetera quindi bene o male ogni squadra ha sempre la possibilità di giocare in 11 il contro ovviamente è che si arriva come vedremo poi in questo caso ad avere un'asta di riparazione un po più povera perché ovviamente i giocatori che esplodono da ottobre a gennaio è probabile che siano stati chiamati o per sostituire qualche asterisco o come cambi extra è ad esempio il caso di Sule che è stato assegnato a una quarantina di crediti verso dicembre quindi andando ad analizzare io ad esempio avevo Scurs anche come giocatore che ho sostituito con uno dei cambi extra prendendo Dragusin che poi è andato è andato via e quindi in realtà è stata una doppia sostituzione l'altro cambio extra invece l'ho fatto mi sembra a centrocampo ho preso friend group perché ero a corto di titolari avevo a parte colpani e l'ovric che non stava tanto giocando ero in emergenza e quindi ho ceduto un giocatore adesso non ricordo neanche chi e ho preso friend group per inserire un regolarista di valore comunque analizzando il complesso della rosa sono riuscito a prendere la porta juve che ovviamente terrò fino alla fine dell'anno ed è una delle prime volte che riesco a prendere una porta top e ovviamente ho intenzione di tenerla così senza toccare nulla in genere mi piace però lo vedremo poi con gli altri fantacalci mi piace anche variare e avere magari uno o due portieri di squadre diverse da alternare per quanto riguarda la difesa beokema e di lorenzo erano un po i miei due punti fermi presi all'inizio tra asta a draft e buste martin purtroppo ha flopato olivera anche un po ha fatto un po di di alti e bassi pavar sono sono riuscito a prenderlo in particolare dopo una piccola fase di riparazione che abbiamo avuto dopo la l'asta iniziale pirola è un titolare da che ogni tanto mi è entrato per per emergenze e appunto zappacosta devo dire che mi aspettavo di più dalla difesa poi non ho parlato di calafiori l'ho tenuto appunto per ultimo perché lui è stato il sostituto di dragosin quindi il mio passaggio è stato da scorse sostituito con un cambio extra ho preso dragosin ha giocato un paio di partite nella mia rosa poi è stato imbarcato e quindi per sostituirlo ho chiamato calafiori sul quale ovviamente per spiegare questa dinamica dei cambi extra le altre squadre che hanno dei cambi a disposizione possono rilanciare e quindi in questo caso calafiori l'ho pagato appunto 16 perché c'è stato qualche rilancio su di lui qui adesso la coppia bologna però in sostanza sono due giocatori validi che spero possano alzare il rendimento della mia difesa con l'avanzare della stagione andando al centrocampo sicuramente colpani mi ha dato una mano incredibile nelle prime giornate poi si è un po' fermato ma diciamo non ha mai sfigurato quindi il suo voto l'ha sempre portato le grandi delusioni in questo centrocampo sono ovviamente camada e la prima parte di stagione di love rich perché è stata un po' sotto le aspettative e vedete qui che c'è uno zurkowski pagato 20 recentemente perché l'ho sostituito l'ho preso al posto di strefezza strefezza è la delusione per antonomasia di questo fantacalcio lui l'avevo preso tra i primi centrocampisti come come top del mio centrocampo al draft però ha veramente performato male nel lecce di da versa quindi in questo caso l'ho sostituito sono riuscito a prendere zurkowski e il mio centrocampo a tre con colpani zurkowski lovrich e uno tra friend group e e qualcun altro che spero arrivi dall'asta di riparazione bene o male è coperto healing purtroppo allegri lo usa nelle situazioni in cui deve andare a recuperare la partita e quindi non l'ho quasi mai schierato oppure ho provato qualche volta ma non ho preso l'unico gol che ha fatto in campionato oristanio è un altro nome che ho preso sostituendo elmas quando è andato via dalla serie a l'ho preso ha fatto una partita ha segnato e poi si è spaccato quindi adesso dovrò valutare cosa fare per l'asta di riparazione noi prendiamo giochiamo poi a valore di quotazione attuale quindi dovessi svincolarlo andrei a riprendere 13 e ci sto pensando seriamente perché comunque ancora un mesetto dovrebbe averlo e questi 13 credit potrebbero essere importanti passando all'attacco berardi ovviamente è il mio top che purtroppo adesso si è infortunato dovrò un attimo tenere duro in queste in queste settimane sperando di piazzare qualcosina di interessante via un giocatore da cui mi aspetto molto nella seconda fase di campionato perché nella prima tra voci di mercato infortuni scelte tecniche gioco della salernitana che non aiutava comunque l'aspetto offensivo a parte candreva che faceva un po' tutto di suo di aspero possa dare un contributo importante quindi arnautovic è un giocatore che spero possa ritagliare qualche spazio maggiore nel momento in cui l'inter andrà a giocarsi le carte in champions league credo che arnautovic stia soffrendo tanto ovviamente la stralipanza di lautaro e turam e il fatto di non poter giocare in modo continuativo probabilmente è penalizzante non è un giocatore secondo me che riesce a esprimersi al meglio entrando un quarto d'ora venti minuti mezz'ora partita deve avere uno spazio un po più ampio e costruire a partire da quello quindi vedremo un po come si comporterà castellanos è stata una presa singola quindi non avevo immobile ma ci ho puntato dall'inizio dell'anno perché mi sembrava un giocatore che potesse ritagliarsi dello spazio importante l'ha fatto non ha non è stato stradipante però è un giocatore interessante penso che in primavera potrà comunque dire la sua in alternanza con immobile quindi come vedete non è un attacco incredibile che dirà ci avevo puntato a inizio anno pensavo potesse essere un terzo slot valido dal voto fisso e invece adesso ha parzialmente perso il posto quindi gioca poco non segna è un giocatore da prendere con le pinze è probabile che che lo vada a svincolare in questa sessione probabilmente in attacco è proprio il nome che penso di lasciare andare e poi per concludere isaxen anche lui presa inizio stagione ero dovevo scegliere tra lui e lucca in una fase iniziale avevo puntato su lucca poi però cambiato idea mi son fatto tentare da isaxen e da un lato me ne pento perché lucca ovviamente ha fatto una buona prima parte di stagione però isaxen qualcosina l'ha dimostrato è un giocatore di fantasia che riesce a creare occasioni quindi penso che lo andrò a schierare in modo importante specialmente adesso che non c'è berardi quindi questa è la mia rosa 19 crediti disponibili ci sono squadre con diverso budget quindi avanzato dalle aste io 19 abbiamo il primo in classifica miniottingham forest a 60 crediti arbi team a 41 33 un'altra squadra e poi c'è il chip leader che è tdt a 90 crediti quindi diciamo che non non avrò ampio margine di manovra per quanto riguarda il mercato vedendo la classifica abbiamo al primo posto una squadra che ha beccato degli acquisti importantissimi che sono turam lucca ciao no glue buonaventura ha davvero una squadra che attualmente è senza dubbio la più forte e in qualche modo merita di essere lì perché come vediamo un centrocampo stellare con buonaventura ciannoglu orsolini e ad alternarsi guendosia ruì mandragora duda giocatori che comunque ogni tanto portano il bonus e l'attacco soprattutto con turam qualaschelia reteghi e lucca che si sono alternati in modo valido perché quando era fuori reteghi c'era lucca che segnava e quindi ci sono state diverse partite in cui i punti sono arrivati così poi abbiamo tdt a nove punti di distanza quindi c'è già un bel margine di distanza tra la prima e la seconda north remembers è lì a 33 con la mia squadra a pari merito quindi sto mi sto giocando il secondo il terzo posto sostanzialmente in questo fantacalcio tenuto conto delle varie vicissitudini e dell'assenza di berardi sarà sarà dura mantenere questa posizione però ci si prova sarà dura più che altro perché le altre squadre sono sono comunque valide quindi vediamo tdt e north remembers per esempio abbiamo north remembers che a lautaro lautaro chiesa è comunque lì nonostante un chiesa che recentemente è stato assente per diverse partite a centrocampo a pellegrini de chetelare ederson quindi è una squadra solida che ha la possibilità c'è samar genzic quindi ha la possibilità di fare bene tdt che è attualmente la seconda davanti a scamacca zirze ha preso recentemente hildiz e a beltran quindi ha un bel attacco da poter far ruotare il centrocampo non è non è dei top però c'è rabbio c'è rainders c'è adesso benasser che può può rientrare è una difesa abbastanza importante con gatti che ha sicuramente performato molto bene l'altra squadra che invece poi era nel raggio di dei 30 punti armi team anche qui abbiamo giro quindi come pezzo pregiato giro lukaku è una coppia che sposta in quest'anno di fantacalcio poi affiancata da laurenti e caio giorgio belotti a rotazione e a centrocampo soprattutto il grande gud munson che non sono riuscito a prendere al draft mi sarebbe piaciuto ce l'ho in un altro fantacalcio lo vedremo lo vedremo poi con un altro video è una squadra solida e con giocatori come felipe anderson love to chic mi chitarian che possono portare tanti bonus quindi questa è un po la panoramica delle squadre presenti nel campionato e per concludere andiamo a vedere quelli che sono gli svincolati quindi quali sono le prospettive i portieri lievito partiamo dall'attacco vediamo come come quotazione c'è diuric che potrebbe essere un'alternativa diuric piccoli alternative da titolarità io sto vagamente puntando banda perché ho bisogno di un titolare proprio che giochi che mi dia proprio la certezza e banda è molto interessante non segna tanto ma ogni tanto fa quell'assist è un giocatore da prestazione quindi 6 e 71 di media di fanta media sarebbe un innesto importante forse tra quelli sì tra quelli rimasti disponibili è quello con la fanta media migliore quindi ora che è tornato proverò a puntarci pochi crediti nelle buste sperando che passi un po inosservato altri nomi in attacco c'è un cherry appena arrivato all'empoli e con niang loro due potrebbero essere opzioni interessanti e poi non c'è molto altro e il bilal tourè magari può essere una scommessa che qualcuno può fare così come noslin nel nel verona e forse l'altro su cui eventualmente tengo un occhio puntato non dovessi prendere banda potrebbe essere brenner come scommessa in quel caso però mi rassegnerei a non avere un titolare ma andrei a prendere un giocatore da possibile appunto exploit magari tra qualche settimana qualche mese dal lato del centrocampo Uden è il giocatore principale assegnato anche questa settimana viola tors del miranchuk c'è una questi sono un po i nomi che mi intrigano di più dal punto di vista del del centrocampo qui devo ancora fare qualche ragionamento sicuramente mi piacerebbe provare a investire un po di crediti su su uno tra Uden viola e miranchuk magari provando la carta c'è una proprio come da due o tre crediti quella busta piazzata lì se lo prendo bene altrimenti pazienza però devo ancora ragionare bene su slov è un nome che mi piace se dovessi andare invece su titolarità potrei pensare a un froiler del bologna però altre cose non non ne vedo tante quindi questi qui sono i nomi su cui penso che andrò a focalizzarmi per il centrocampo infine passando alla difesa qui c'è un unico nome che è in assoluto il il mio obiettivo dell'asta di riparazione penso che ci andrò offrendo pesante ed è Olm dell'Atalanta non perché ho già Zappacosta in squadra anche ma non solo semplicemente perché tra tutti i difensori disponibili è quello che ha più potenzialità di andare a essere incisivo quindi visto che devo puntare a recuperare un po di punti per mantenere un piazzamento da podio Olm sicuramente è un un nome importante che proverò a prendere tra gli altri come vedete non non ci sono grandissime scelte ci sono tanti giocatori validi come Vasquez Tolian, Monterisi, Gendry, Lazaro, Zappa ci sono dei giocatori validi che possono portare voto e che possano possono contribuire alla fase finale ma non ci sono quelli che spostano e in questo caso penso che Olm sia uno di questi quindi proverò sicuramente a puntare bene ragazzi abbiamo concluso questo è quanto per questo fantacalcio storico gli altri due video legati ai fantacalcio che sto svolgendo saranno un classic a 8 e dopo di che un mantra a 10 quindi una modalità che sto provando quest'anno per la prima volta mi sta piacendo molto quindi è interessante non vi anticipo nulla sugli altri due video seguitevi se vi è piaciuto il video lasciate un like ovviamente vi auguro una buona giornata fantacalcistica a tutti e ci si vede alla prossima ciao